Quante volte avete sognato di vedere una lobby con 10 Edgar su Brawl Stars? Quante volte avete sognato di vedere una lobby con 10 Fang su Brawl Stars? Bene, oggi ragazzi ho deciso di fare un contenuto un po' diverso dal solito. Abbiamo messo nuovi ingredienti e nuovi cibi nel nostro menù del cucinare e come avete sicuramente letto dal titolo abbiamo fatto delle amichevoli folli che ho fatto con voi live che vi ricordo che faccio alle 1 e mezza di pomeriggio e alle 8 e mezza di sera ogni giorno tranne il sabato. Questo almeno finché non troverò un orario estivo. Per questo bellissimo video io vi chiedo 10.000 like e se li dovessimo raggiungere nel prossimo farò una cosa che vi ho già messo nel mio community post di YouTube e se volete scrivere qualche nuova idea andatelo a scrivere mi raccomando farò la serie Meat Busters di Brawl Stars. Cosa significa? Voi mi scrivete qualcosa e io testo se è vero oppure falso. Tipo non lo so, prendi un brawler e gli dai tutti i potenziamenti della velocità fa crashare il gioco, è vero oppure falso e lo scopro io. Non voglio rubarti ulteriori tempo, mi raccomando se non sei iscritto fallo subito e io ti auguro una buona visione. Let's go! Allora ragazzi, primo game ve lo dico già che voglio vedere tutti i tick quindi se non avete tick male per voi. Qua bisogna fare le scelte giuste, sia di gadget che io. Secondo me col gadget direi che è meglio l'altro per l'ello e sgombro perché questo gadget qua è difficile che hai i tick addosso però forse è utile per la... non lo so. Non lo so, nel dubbio siamo pronti ragazzi. Tick 5 contro 5. In una mappa incredibile di footbrawl vediamo cosa succede. Guarda qui, guarda qui. 5 contro... no ma sono contro di te! Guarda qui! No zi, guarda il campo di battaglia! Oh la ulti! No orco zio! Sono ancora vivo, sono ancora vivo! Bro c'è sgombro che mi ha puntato, ti devo... Aia! Vai da attenzione stiamo pushando qua! Si capisce niente! No bro, ti venga il mio... no, di punto a te! Ti ho appena l'altro. È molto attento bro! No bro, hai messo la testa! Ok? No, fanno gol di là! No, forse no! Forse no, forse no! Difesa goated! Vai nice! Eh qua mi sa che devo andare giù! O forse no! Mi dà la spinta in avanti! Eh niente! C'è questo nice qua che mi sta... Nice ne sa eh! Nice ne sa il bro! Mi cucino! Non hai capito proprio niente! Dove sei? Ecco di... No, no, ecco! Dov'è la testa? No zio! No! Perché? Proprio! Mi ha salvato il sgombro mi sa zio! Godo! Porco! Qualcuno ha l'overdrive! Eh niente, vado giù io! Grande! Dart Righi! Oh! Nice è partito con l'overdrive! Attenzione! Guardalo! Partita la testa! Mi appartiene un po' di overdrive eh! Ma? Bello! Dart Righi! Come l'ha incastrato sto gol zio? Guarda il campo inizio partita fra... Ok qua si può fare gol! C'è tutto il potenziale! Grande! Nice! Sì! Nice! No non andare sulle mine! Testolina! Cosa fa? Oh è ancora viva però! Oh! No è stato sgombro tirarlo giù! Niente! Oh! Mio fratello Lello che fa gol! Manichetto Lello! No no! Si go! No bro l'inizio è solo! Oh più cure prestati ho preso! Sgombro più danni causati! Però voi avevate il migliore che era Righi! No bro gli tengo l'amicizio in sospesa! No non so se stai! Allora adesso dobbiamo mettere tutti... Qual è un brawler che può essere simpatico da mettere? Che mettono tutti? Che non si capisce un cacchio! No bro Frank! Dobbiamo mettere tutti Frank! E la cosa diventerà man mano peggiore! E ogni volta buttiamo fuori le persone che... Non ce l'hanno o che hanno già giocato! Ci siamo ragazzi! 5 Frank contro 5 Frank! No a sgombro c'è una... Vabbè sgombro è main Frank! Però è una skin bellissima! Oh! Attenzione alla ulti! Oh! Stunato tre persone! No bro ma li stiamo cucinando di brutto! Altro che! Ma li abbiamo cucinati! Ma li abbiamo asfaltati! Senti a Doug! Grande flash! Bro li abbiamo cucinati! Abbiamo iniziato stra bene sto game! Ma ha attivato il gadget! No! Maledetto Inter! No nice m'ha preso! No bro! Così non stiamo cucinando! Eh bro ma è tutta una questione di ulti qui! Abbiamo tutti la ulti! Aspè! Facciamogliela usare! Oh! No no! Oh nice! Tu così non me la gasi nice! Non si capisce un cacchio zi! Così non va bene! Ok! Non ho sprecato la ulti! No! Faiz la presa! Oh! Ma che sgombro! Come che bro? Te lo giuro era lì da solo! Sgombro ce l'ha cucinata! Grande sgombro! Let's go! Ehi! Ti ho visto che non ti sei iscritto al canale! E soprattutto mannaggia te! Bevi i tuoi due litri d'acqua al giorno! Che ti fanno bene per la tua salute! Mi raccomando! E non mi pagano per dirvelo! Non ho l'etichetta! Allora adesso! Esotico! Un brawler esotico che fa casino! Perché anche l'abbiamo fatto l'altra volta! Però dopo la dobbiamo rifare! Poi ce l'abbiamo fatto! Fang! Fang! Bro! 5 Fang contro 5 Fang! Che hit! Allora! Build di Fang! Cosa consiglia Rashi? Onorevole! Forse i popcorn sono meglio qua dello stun! Sì! Così si fa più casino! Tratto bello! Ma io voglio vedere quando iniziamo a spammare tutti le ulti! Che non si capirà niente! Una volta quando tutti hanno usato... Cioè ci ho provato! Quando tutti hanno usato i popcorn è crashata la mappa! Quindi non vorrei che succedesse! Vai bro! Tutti i coordinati a usare i popcorn a start game! 3! 2! 1! Vai! Bro! Non si capisce! Ma poi non vedi quali sono i tuoi e quali sono degli avversari! Incredibile! Oh! Ha già partito! Io già c'ho la super! Nice! Stavolta ti... No! Nice mi ha cucinato! No! Eh! Nice è forte! Ve l'ho mandato di là che almeno hanno un pro player! Nice! Grande Lello! Bravissimo! Lello! Fa fortissimo! E il brolello le salta! Nice! Dove sei? Ti confino! Godo! Niente! No! I popcorn mi hanno tirato giù bro! Non si capisce! Oh! Guarda il sgombro che fa gol! No! L'hanno parato! Niente! Attacca io ancora i popcorn! No! Ok! Sgombro! Buono! Buonissimo! Attenzione! GG! Guarda tutti sti fang sullo schermo! Ognuno con una skin diversa! Quale potrebbe essere un altro brawler? No bro! E' il primo! No! Bro! E' il primo potrebbe essere sgravato! Ma tipo... Oppure da Anamite con il gadget quello delle bombette! Anche! Ah tipo che tutti spinnano! Va io di Andrei di E' il primo! E' il primo però qua bisogna bilanciarsi il gadget! Qualcuno deve mettere anche cintura di asteroidi! Che tutti in gruppo zio sai che casino fa! Io metto quello del salto! Vai! Non importa il forzo! Penso che tutti abbiano il primo nel gioco sì! C'è lo sbocchi letteralmente! Vamonos! Guarda quante skin! Nell'altro team letteralmente hanno tutte skin diverse! No li dobbiamo cucinare eh! Per forza! Eh sì! No io non accetto di perdere! No nemmeno l'interno! Tu dove vai? Giublo! Giublo di cucina! No giublo! Non ci siamo capiti! No! Inter l'ha fatto! Inter? No! Rebecca che vuole fare la 1v1 con il primo! No! No 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 zio! No! No! Non ci posso credere! No questo è da rifare! Questo è da rifare! Scandaloso! Tutti pronti istantaneo! Tutti pronti istantaneamente! Istantaneamente! Non si può perdere dopo 30 secondi c'è! No no! Così non va bene! Giublo ti aspetto! Oh nice! No! Non ci credo! Ho la ulti però attenzione! Abbiamo un vantaggio! Hanno ulti loro sì! Eccoti! Giublo! No bro! Levati! No nice! Ok! Bro abbiamo fatto scomparire la mappa! È diventato tipo l'overtime ma non siamo nell'overtime! Oh va che l'ello ha lo boost e lo speed! No rega dobbiamo segnare più forza! Eh sì! Io ho la ulti! Ho la ulti dog! Lanciala avanti dog! Vai dog! Niente! Niente dog! Oh! Bello sgombro! Ho l'overdread di nuovo! Oh sgombro! Abbiamo pure la stessa skin! Dobbiamo cucinarli! Bro qua lì facciamo dei danni devastanti! Ci siamo! Dov'è la palla? Ce l'abbiamo bro! 1-1! Let's go! Oh no! Questa mi ha gasato bro! Sta partita mi ha gasato! Devo dire la verità! Arashi il migliore! Non vorrei dire niente! Oh nice per poco eh! Con quei danni bro! Guarda con i 60k! 67k! Sta attento! Oh hai detto poco! Facciamo pocio! Bro Mico! Immaginati una lobby di Mico! Bro 5 Mico contro 5 Mico è assurdo! Guarda di là tutte skin basiche e noi tutti con la skin... Vai sgombro c'ha delle skin assurde zio! Bro non si capisce niente! Oh avevo io la palla per un secondo! No zio non si capisce niente! Tutti hanno la star power dove ti ricarica il colpo! Mi son saltato di 3 addosso e non ci ho capito più niente! Arashi! Sì bro! Si cucina! Eh attenzione però adesso eh! Non ho partito anche io siamo in due con la ulti! Lello passa l'avanti bro! Sto davanti alla porta da solo con il back! No! 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 Eh qua attenzione perché c'è il comeback mi sa eh! Li dobbiamo fermare un minimo! No la palla è avantissimo! Non ci credo zio! No giublo! No c'è giublo con la palla! Sono in troppi! Sono ancora tanti! Sono ancora... Difesa! Devo descendere zio! No! Per poco! Per pochissimo! Assurdo! Bello! Divertente con Mico! No bro! Sai cosa potrebbe essere? Questa è interessante! Tutti i bibi! Bibi? Bro tutti i bibi! Con l'overdrive sai che bolle! Eh ma appunto! No! Scandalo! No! Dobbiamo provare per forza! Doviamo provare! I mortis! No bro! Dopo dobbiamo fare mortis! Ci siamo ragazzi! Aiaiai! Oh però noi a livello di maestria si ammessi da dio eh! Cioè qua se perdiamo è proprio full l'umiliazione! Che casino zio! No! Non ci posso credere! L'ho dentro! Giusto il tempo di dirlo eh! Ok l'overdrive anche io! Zio qua si può fare un devasto incredibile! Sei pronto? Io faccio l'overdrive! Bro che casino! Mi sono rifatto una ulti con quell'overdrive! Aia! Abbiamo la porta molto scoperta adesso eh! Attenzione! No! Ancora giù! Scandalo! Quell'uomo è fortissimo! Peccato peccato! No mia inter ha fatto bro! Ora è il distacco di danni che ha fatto inter! 70.000 danni! Assurdo! Adesso tocca farlo con mortis bro! Lobby full mortis! Guardaci qua! Skin argento! E si vola! Dai andiamo! Mamma mia! Uh! Guarda Lello! Guarda Lello! Bello! Mamma mia Lello! Mio fratello! La gasa bro! La gasa! Ok! Attenzione! Bro mi sono fatto una doppia! Mamma! Non so perché ho usato la ultima! Avevo considerato già la vittoria! Forse perché volevi fa... Bro abbiamo cucinato di brutto noi due a sto game eh! Sì! Portato a casa! Bro 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 bro! Questo è il definitivo! Tutti Edgar! Mamma mia la gente! Che sei tanto addosso! Questo è crazy! Soprattutto se mettiamo tutti il gadget adrenalina che saltiamo tutti nello stesso identico momento preciso! Tocca! Io e tu! Apro! La velocità con cui avete messo Edgar però ragazzi è spaventosa! Qua sono tutti i main Edgar non va bene! Mamma mia bro mamma mia! Guarda tutti che saltano lo stesso nome! Oh no! Aspetta! Ora si! Oh li stiamo cucinando! L'altro gadget mi ha cucinato! Aveva lo scudo? Sì! Eh ne sa bro! E' andato controcorrente! Mi sono saltato! Mi ha asfaltato! No Rubro non me la ricordi! No Rebecca l'ha fatto! Tende a fare gol! Stai facendo godere tutti i main Edgar! 5v5 nella live di Lollo di Edgar prima di GTA 6 ragazzi! Belello con 6 di vita guardalo! No peccato! Oh! Attenzione! Che difesa della Madosca! Rebecca contro 5 persone! Ok! Ma cosa fa l'overdrive di questo broler? Per curiosità! Guarda non lo so! 1-1 bro 1-1 non possiamo perdere! Non so cosa fa l'overdrive di questo brolero! Oh! Lello me la hai gassato! No! No! Sì! Vabbè! E si va a vincere pure con Edgar ragazzi! Let's go! Ah zio! Ma guarda le tre sciarpe alzate! No ma... Non so se sei ancora nella schermata finale fra! Guarda gli Edgar nemici zio! Che si tappettano da soli in testa all'infinito! Fanno spaccare! Questa è una richiesta personale! Dynamike! Però dobbiamo mettere tutti la star power del salto! Questa è importante! Bro ti faccio win to pre-jump! Sono min vecchietto io! Sei min uomo anziano! L'altra volta avevi detto uomo in carrozzina! Mi ricordo bro! Uomo in carrozzina! È l'intro di uno dei miei video di Youtube! Devi sapere! Uno dei miei video di Youtube ultimi! Sei tu che dici? Uomo... Sono insano con uomo carrozzino! Ah si l'ho visto! Quello delle 60 carrozzino! Sì esatto! Siamo insani con uomo vecchietto! Ok? No però mi hanno cucinato! Mi hanno sparato in 5! Nello stesso momento mentre stavo facendo i jump! Bro qua è poi letteralmente auto in mare che ne prende almeno 10! Oh! Me sono salvato! No si è salvato anche lui! Quella sgombro! Guarda come le cucina! Porca vacca zio! Ci sono 6 persone là sotto! Oh ci siamo! Siamo alla porta bro! Siamo alla porta! Siamo alla porta bro! Siamo alla porta! No! Grande bro! Si vola! Si stravolazza! Bello il tuo bro! Mamma mia sgombro! This guy! Altro che me! Sei due con uomo carrozzino! Sei due con uomo carrozzino! Non dire uomo carrozzino! Allora bro! Dobbiamo finire in bellezza con una cosa! Sei sicuro di essere pronto? Sì bro! Prontissimo! Con cosa lo vogliamo fare però? Piper! Che famo! Vai facciamo Piper! Il brawler più umile per fare le 1v1! L'ho fatto ad argento facendo le 1v1 Piper praticamente! Vai! Vabbè la build la conosci già! Lo sai che non si usa quel gadget! Sei pronto? La definitiva ragazzi! 1v1 contro Rush! Video check! Non sono un seme di cocco! Un seme di cocco! Ma poi zio... No zio ho appena mi cercato su internet come un seme di un cocco sono veramente... È letteralmente la mia testa zio è incredibile! Sono insano con donna ombrello! Let's go! Lui ha donna ombrello brasiliana! Io danno ombrello boh! Non sono fortissimo con Piper! Quindi è possibile che mi demollisci! Neanche io zio sono fortissimo con Piper! Non sono insano con donna! È possibile che mi demollisci! Non voglio sentire scuse bro! Real man! Tento my man! Potrei arrivare a chiuderti nell'angolino! Oh bro! Però! Non sono uomo tensaio! Beh però ce l'hai! Ce l'hai! C'hai dei buoni riflessi! All'angolino dall'olio lacustre! Male male Rush! Beh intanto ti ho preso qui! Ti ho preso due volte però! Attenzione! Bro sai che finisci 1-0? Cioè 0-0! Però attenzione perché qua abbiamo un miglior giocatore eh! Abbiamo un miglior giocatore signora Rush! Bro io ho fatto 8.000... È di cure però! 8.130 cure! E tu ho 8.130 danni! Ma quanto siamo coordinati? Eh ma perché ti sei curato i danni che ti ho fatto! Oh! Mamma mia! La mia matematica ragazzi! Allora bro! L'altro più serio è Mandy! Eh ma... Mandy 1v1 bro! Mandy 1v1! You know what I'm saying? Che ho pure rank 30! Hai rank 30? Eh allora... Sì! Mi sa che mi cucini bro eh! Che con Mandy è più difficile perché hai comunque grande range! Cioè te la puoi gestare abbastanza bene! Facciamo corte che è? No mo c'è un movimento liscio! Ok! Sono contenta per te! Come cacchio mi hai preso zio puledro? Aia! Questa è stata bella! Ok! No! Non mi va bene! No bro! Bello! Eh non so... Non sapevo minimamente dove eri! Ho sparato a caso tra uno dei due lati! Porco zio bro! Non hai idea di quanto mi hai fatto il pelo! Mi hai reso ancora più stempiato zio! Eh qua è difficile! Is crazy man! Vai è entrato tenzai! Aia! Oh bro! Con lo slow! Ah! Sei stato cucinato bro! Damn bro! Damn! Aspetta il bro è scomparso! Oh bro! Ai 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 ai! Anche qui mi sa che qualcuno è stato cucinato eh! Sempre pareggio! Però i danni bisogna guardare bro! Bisogna guardare i danni! No no no! Dai sceli tu il terzo! Facciamo un uomo carrozzino! Sceli tu il terzo bro! Il meglio di tre! Sceli tu il terzo! Facciamo un uomo carrozzino! È bellissimo! Stai parlando di Chuck? No bro! Di Dynamo è che tu il uomo carrozzino! Eh Chuck zio! Chi è che è sulla carrozzina? Quello cammina! Bro dove lo trovi un 80enne che cammina e salta alla sua età? Guarda che è una roba non da poco fra eh! Cioè tu stai sottovalutando uomo carrozzino! Aspetta no la build è sbagliata! Ok ci sei! Quello è uomo trenino! No zio! Vabbè c'è un bug che non mi fa cambiare il gear! Mi fai cambiare sto cacchio di gear o no? Ma come è già presente in un altro slot? Vabbè sarà un bug visivo dai! Vi fido! Se non ti cucino con uomo carrozzino! Perché odiamo uomo carrozzino! Di distallo il gioco! Bro io ho la skin dello chef! Stai attento! Dobbiamo... Cioè usiamo il gadget dello stunno? O non lo usiamo? Eh... Libera utilizzo! No! Eh quello è skillato bro! È l'altra build che è un po' meno... Aia! Guarda come... Guarda come spraya il terreno! Il bro è insano con un uomo vecchietto! Ah io non so fare tutti quei trick che fai tu! E non ho il ping per poter fare i tre salti! In questo momento! Oh quanto odio quando si è uno sopra l'altro con Dynamite! No! Niente! Non ci capisco un cacchio zio! La mia testa sta impazzendo a cercare di capire... Il senso con cui stavo lanciando queste mine! Se c'è! Perché non sono così sicuro! Ma com'è... Com'è possibile? Da dove sono uscite quelle mine? GG! Sei veramente insano con un uomo dinamite bro! Il bro non stava scherzando! Bro io te l'ho detto! È il mio main! Con mi sgombro c'è un main franc! Io c'ho un uomo dinamite! Ci sta! Ci sta bro! Ci sta! You do you! Ha una meccanica particolare! L'importante è che piaccia a te! Buongiorno! Ragazzi! Due le abbiamo cucinate però! È sui long range! Mi chiamo giuduro! Dovrò allenarmi con Dynamite duramente per battere mister insano con un uomo dinamite! Però... Devo dire... Amichevoli stradivertenti! 1v1 stradivertenti! Chef Kiss! Con il nostro Dynamite che cucina! L'Acustri! Io vi ringrazio tantissimo della visione! Come al solito se volete vedere altri miei due video io ve li lascio qui! E noi ci vediamo al prossimo! Let's go! Let's go!